Turchia, ora l'Italia si giocherà la qualificazione nel terzo e ultimo incontro del gruppo B contro la Slovacchia. Siamo al volley con la World League, l'Italia crolla contro il Belgio e dice addio alla possibilità di partecipare alle Final Six brasiliane. Ad anversa l'Italia è stata battuta 3-7-1, 25-22, 26-14, 25-27, 25-16 dai padroni di casa e la sesta sconfitta in otto partite per la nazionale di Blengini che oggi concluderà la propria World League affrontando il Canada alle 13 con diretta su Rai Sport Plus HD, gara importante per i nordamericani che cercano ancora la qualificazione per le Final Six che si disputeranno in Brasile. Siamo alla scherma, è calato il Sipa.